San Giuseppe illumina con la sua presenza discreta il tempo che stiamo vivendo, un tempo in cui il lavoro è diventato difficile, perché manca, perché non garantisce il sostentamento, perché le modalità di quella che prima era considerata quotidianità sono diventate faticose. Papa Francesco sottolinea come essenziale il lavoro di San Giuseppe e lo fa rimarcando la necessità di ricomprendere oggi il suo valore. Questa riduzione della possibilità di movimento, di incontro, in qualche modo è andata ad interferire con la ferialità. In questo senso anche la bellezza, l'attualità di questa esortazione apostolica sul riacquisire un senso di profonda dignità del lavoro. Custodire pur nella grande difficoltà di questi tempi questo diritto che è anche un dovere, però è anche un diritto sacrosanto nell'uomo, cioè quello di mettere a disposizione se stesso per una edificazione e per un miglioramento reciproco nel lavoro. Ma c'è un altro aspetto che la figura di Giuseppe suggerisce ed è quello dell'obbedienza. Un padre obbediente, sottolinea Francesco, è tale proprio mentre insegna l'obbedienza al figlio. Si obbedisce nell'essere padri perché bisogna essere subordinati alla verità. Il verbo obbedire nasce dal verbo ascoltare, obbaudire. L'obbedienza nasce sempre dall'ascolto, si ascolta la verità. Qualcosa di più alto e di stabile che ci guida e ci orienta, che chiaramente nella fede è Dio. E questo lo si mette poi a disposizione di chi ha meno esperienza, quindi dei figli che in questo senso imparano e imparano anche quest'arte dell'ascolto. E poi il silenzio di Giuseppe, dissonante rispetto al chiasso a cui ormai siamo abituati, dissonante rispetto alle molte urla. Ho in mente l'immagine, forse ce l'abbiamo un po' tutti, della natività di Giotto, della Cappella degli Scrovegni, dove questo Giuseppe è quasi messo da parte, proprio per dimostrare questa subordinazione alla verità, alla bellezza, di chi è più alto. Chi diventa un insegnante, chi parla, è soprattutto chi sa farsi da parte, volendo bene e soprattutto indicando una via. In questo senso questo silenzio forse ci può aiutare, forse parla più di tanto schiamazzo che vediamo in giro.